ragazzi buongiorno buongiorno a tutti noi siamo in partenza che andiamo a lugano in svizzera quindi porto all'estero rosina perché ho un appuntamento di lavoro per per quanto riguarda l'agenzia quindi mi accompagna andiamo a lugano dove poi non sono mai stato quindi speriamo che sia una bella giornata e poi che altro dire ci sarebbe da parlare ore e ore di calcio che ieri è andato via conte però credo che farò delle storie più oppure ve lo dico direttamente domani che c'è la diretta con mio papà e quindi ne parliamo perché stanno succedendo un po di cose amore conte è andato via ragazzi piccola comunicazione per domani perché la diretta con mio papà e tacconi quindi sarà molto interessante invece di essere alle 22 sarà alle 18 quindi vi aspettiamo domani alle 18